Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto, ma con FCA e quindi siamo in casa Fiat. Giusto Francesco Milazzo, responsabile vendite nuovo. Sì, grazie Rosi. Benvenuti in casa Fiat e benvenuti in FCA. Siamo a Milano, in via Grosio numero 9, angolo via Alcide De Gasperi numero 6. Quindi ovviamente FCA vuol dire Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Jeep. Quindi tutti i marchi che noi rappresentiamo e non per ultimo per importanza LCV, quindi veicoli commerciali. Quindi tutta la gamma veicoli commerciali a vostra disposizione. Abbiamo anche veicoli commerciali targati da farvi provare. Lo sesto discorso, test drive, ovviamente vale anche per tutte le vetture nuove. Quindi saremo ben lieti di accogliervi nei nostri saloni, proporvi un bel test drive, farvi toccare con mano, farvi provare su strada la vettura che sceglierete di acquistare, ovviamente prima di fare l'acquisto. Tutto questo, scusami Francesco, non abbiamo nominato Motor Village, va bene che siete in casa Fiat e lo sapete. Quindi FCA sta per Fiat Chrysler Automobile, ma comunque siamo al Motor Village appunto qui a Milano, per cui vi invitiamo a venire a testare con un test drive la vettura, naturalmente prima dell'acquisto. Ti ringrazio per la precisazione, era assolutamente doveroso. Ci tenevo e colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto tutte le persone che sono venuti a trovarci negli scorsi weekend che abbiamo dedicato al lancio della nuova Fiat Tipo. Sono stati due open weekend eccezionali, abbiamo accolto tantissima gente, è stato un grande successo di pubblico, di test drive, ma soprattutto importante di vendite. Quindi se volete continuare ad approfittare, abbiamo ovviamente la nuova Fiat Tipo targata a vostra disposizione per ogni test drive che voi vogliate fare, quindi vi aspettiamo numerosi per presentarvi questa nuova bellissima nata di casa Fiat. Ovviamente non possiamo non parlare del post vendita, quindi via Grosio 9 è l'ingresso del nostro post vendita, quindi magazzino ricambi, officina, quindi siamo pronti ad accogliervi tutti quanti per le vostre manutenzioni, per i vostri tagliandi, per le sostituzioni gomme, per acquisti ricambi, quindi da lunedì al venerdì tutti i giorni a vostra disposizione anche per quanto riguarda un ottimo preparato post vendita. Perfetto, grazie Francesco, come al solito sei stato molto chiaro e in modo semplice hai detto tutto quello che offre appunto la Fiat, perché vi ricordo siamo in casa Fiat, quindi tutto questo lo troverete qui, vedete sempre l'indirizzo, il numero di telefono, lo chiamate per informazioni ma soprattutto venite anche a provare le vetture. Ed ora noi ci trasferiamo nel reparto vetture d'occasione aziendali Km0, fornitissimo anche quello con prezzi assolutamente competitivi e andremo a parlarne con Annalisa. Intanto grazie a te, alla prossima. Grazie a voi, a dopo. Mentre state già guardando qualche immagine di questo splendido salone dedicato completamente alle vetture aziendali usate a Km0, accanto a me è qui Annalisa, che saluta, ciao. Esatto, benvenuti a tutti in casa Fiat, Motor Village Milano, nel nostro splendido salone dell'usato con circa 300 vetture tra auto chilometri zero, usate del marchio Fiat, usato multi brand, sono le nostre permute e vi aspettiamo con le occasioni di questo mese, con un finanziamento particolare, a un tasso particolare del 3,14 tan, incluso il furto incendio, per tutti i clienti del Motor Village di Milano, per tutti i clienti di casa Fiat. Certo, ecco, ricordiamolo appunto che siamo in casa Fiat, per cui qui ci sono veramente delle grandi occasioni per voi, non solo delle marchio Fiat, come ha detto Annalisa, ma anche multi brand, quindi multi marche. Andiamo a vedere qualche occasione? Subito. Una splendida Alfa Romeo Mito, multi air turbo benzina, 140 cavalli, cambio TCT, in matricolazione 2015, con navigatore, al prezzo di 16.100 euro. Ed ecco una delle ultime nate in casa Fiat, 500X, 1.6, 120 cavalli, allestimento City Look, in matricolazione aprile del 2015, chilometri 19.700, al prezzo di 21.000 euro. Alfa Romeo Giulietta, versione exclusive, 1.6, 105 cavalli, in matricolazione ottobre 2014, con 15.400 chilometri, al prezzo di 17.300 euro. Auto con sensore anteriore e posteriori, cerchi da 18, colore metallizzato, allestimento exclusive. Giulietta, allestimento Distintive, 1.6, 105 cavalli, in matricolazione febbraio del 2015, 23.500 chilometri, al prezzo di 16.900 euro. Giulietta, allestimento Distintive, in matricolazione luglio del 2014, 19.900 chilometri, al prezzo di 16.500 euro. Volvo XC60, 2.000 turbodiesel, 163 cavalli, drive kinetic come allestimento, luglio 2011, 51.500 chilometri, al prezzo di 18.500 euro. Jeep Cherokee, 2.800 euro. 200 cavalli CRD, Overland automatico, giugno del 2013, 77.000 chilometri, al prezzo di 19.900 euro. Jeep Wrangler, 2.800 CRD, in matricolazione in maggio del 2011, 44.700 chilometri, soft top, cambio manuale e navigatore, al prezzo di 22.900 euro. Audi A1, 1.4, 122 cavalli, in matricolazione 2013, 44.000 chilometri, autocon, fare lo xeno, cambio S-Tronic, allestimento S-Line, cerchio da 18, tetto apribile, al prezzo di 15.500 euro. 500 Abarth, 1.4, 135 cavalli, in matricolazione settembre 2012, fare lo xeno, clima automatico, 73.000 chilometri, al prezzo di 12.300 euro. 500 cabrio, 1.269 cavalli, allestimento ROC, interno in pelle rossa, fare lo xeno, chilometri di 13.100, al prezzo di 12.200 euro. 500 cabrio, allestimento by diesel, in matricolazione novembre 2010, 21.600 chilometri, fare lo xeno, cerchi da 16, clima automatico, predisposizione per il navigatore, al prezzo di 9.900 euro. Opel Corsa, 1.2, 80 cavalli, allestimento Enjoy, 5 porte, alimentazione benzina e GPL, in matricolazione novembre 2009, 60.400 chilometri, al prezzo di 6.700 euro. Citroen C3, 1.4, 73 cavalli, cerchi in lega, cruise control, fari fendinebbia, alimentazione benzina GPL, in matricolazione gennaio del 2011, 78.000 chilometri, al prezzo di 7.700 euro. Lancia Ypsilon, 1.269 cavalli, allestimento Gold, colore metallizzato, cerchi in lega, quinto posto, in matricolazione giugno del 2014, 21.100 chilometri, al prezzo di 8.900 euro. 4K, 1.2, 69 cavalli, titanium, del giugno del 2014, interni in pelle, clima automatico, cerchi in lega, 59.400 chilometri, al prezzo di 6.700 euro, interamente finanziabili, presso casa Fiat. Toyota IQ, 1.301 cavalli, allestimento Executive, aprile del 2012, chilometri, 18.900, al prezzo di 9.900 euro. Smart Passion, 1.171 cavalli, MHD, 57.900 chilometri, aprile del 2011, al prezzo di 6.900 euro. Alfa Romeo, chilometri zero, in matricolazione 2015, allestimento Distintive, 2.150 cavalli, perla Moonlight, al prezzo di 20.900 euro. Alfa Romeo Giulietta, allestimento Business, 1.6, 120 cavalli, in matricolazione ottobre del 2015, Giulietta con navigatore, sensori anteriori e posteriori, al prezzo di 19.300 euro, interamente finanziabili, TAN 3.14, incluso furto incendio. Alfa Romeo Giulietta, 1.4, 120 cavalli, turbo benzina, GPL, allestimento Progression, in matricolazione ottobre del 2015, al costo di 18.000 euro. Alfa Romeo Mito, 1.4, 120 cavalli, allestimento Progression, alimentazione benzina GPL, con fari fendinebbia, cerchi in lega, blu e mi, in matricolazione novembre del 2015, al costo di 15.400 euro. Lancia Delta, allestimento Gold, auto aziendale, con 20.900 chilometri, interno in pelle, clima automatico, cerchi in lega, al prezzo di 14.900 euro. Al Motor Village Milano, in casa Fiat, abbiamo una grossa disponibilità di Fiat Panda, Fiat Panda benzina, Fiat Panda diesel, Fiat Panda 4x4 e Fiat Panda GPL, chilometri zero, questa a color rosso, in matricolazione 2015, al prezzo di 10.900 euro. In casa Fiat a Milano, al Motor Village Milano, disponibilità di Jeep Renegade, aziendali, chilometri zero, di Jeep Wrangler Unlimited e di Fremont, chilometri zero, nell'allestimento Cross. Venite a trovarci in casa Fiat Motor Village Milano. E qui troverete anche un Fiat Ducato Maxi Natural Power, chilometri zero, a 25.300 euro, IVA compresa. E siamo giunti al termine di questo appuntamento, avete visto tante belle occasioni, ma tantissime altre vi aspettano qui, vero? Sono tantissime. Esatto, Rosy. Vi aspettiamo tutti qui in casa Fiat, al Motor Village di Milano, in Viale di Gasperi, numero 6. Vi aspettiamo numerosi qui da noi in casa Fiat, con le nostre occasioni, con i nostri usati, con i nostri chilometri zero. Vi aspettiamo, vi aspettiamo, vi aspettiamo, qui in casa Fiat. Perfetto, grazie Annalisa. Aspettiamo voi, le vostre telefonate, ma soprattutto venite qui a provare, a vedere queste vetture, perché ne vale davvero la pena. Grazie a te e grazie a tutti voi. Grazie e buona sera a tutti.